arriviamo come detto alla parte sul segreto industriale o sul segreto commerciale industriale se lo vogliamo guardare ad un'ottica appunto più strettamente di industria ma ormai siamo in un mondo di quasi unicamente di servizi e quindi si parla anche più genericamente di segreto commerciale è quell'istituto giuridico che interviene, che entra in gioco e diventa utile quando vogliamo tutelare qualcosa che non è ancora diventata né una creazione intellettuale né un marchio né un'invenzione industriale né un modello di utilità né un design ma è ancora un'idea astratta oppure addirittura una semplice informazione, un semplice dato allora in quel caso non abbiamo molti strumenti nel senso che non c'è un istituto di proprietà intellettuali cioè dei classici quattro che abbiamo citato della proprietà intellettuale quattro strumenti classici della proprietà intellettuale che può soccorrere ad una situazione del genere però allo stesso tempo la soluzione, cioè a volte appunto ho proprio bisogno di tenere tutelata una semplice informazione non è una semplice idea astratta chiaramente la prima soluzione è questa cioè finché puoi non la dice nessuno cioè finché scusate tolgo il mouse finché finché potete state belli zitti ho trovato questa foto su flickr citata con l'autore citato il silenzio vi salva chiaramente vi salva fino a un certo punto perché? Perché arriva un momento in cui in realtà la dovete la dovete esporre un classico esempio tornando sempre ad esempio delle start-up delle aziende innovative a volte devi farti finanziare la tua idea il tuo modello il tuo nuovo modello di azienda il tuo nuovo modello di business e per farti finanziare il finanziatore ti chiede cosa vuoi farci con questi soldi non è così strano cioè se ti devono dare 8 mila euro decine di migliaia di euro centinaia di migliaia di euro per sostenere il tuo business vogliono sapere per che cosa gli stanno dando solo che la vostra paura di piccoli imprenditori è quella che raccontando l'idea il vostro interlocutore poi la possa replicare in molto meno tempo e con molto meno sforzo di voi io vado da telecom da team a farmi finanziare un progetto sul 5G perché ho una startup che si occupa di compressione dei file per rendere la comunicazione di 5G ancora più più efficace allora ho trovato un modo per cui se riesco a ottenere il brevetto però il brevetto lo puoi ottenere solo dopo perché prima bisogna fare tutto un lavoro di preparazione e quindi ho bisogno di essere finanziato vado a raccontare questa cosa a team che secondo me è poi il mio finanziatore più potenzialmente più interessato a questo tipo di settore il quale giustamente dice ma scusa perché io ti devo dare 200.000 euro a te per fare questa cosa quando tanto adesso me l'hai raccontata e a me farla in casa mi costa 100.000 capite quindi questa è una paura è una paura legittima che spesso hanno gli imprenditori del settore diciamo del settore tecnologia che si rivolgono a me come legale a volte per consulenze proprie di questo tipo cioè avvocato io voglio tutelare la mia idea e io ogni volta sorrido perché guardi non abbiamo un copyright sull'idea è scritto ovunque come non abbiamo un copyright come non abbiamo la possibilità di un brevetto come nell'esale precedente su vi ricordate i metodi no? quindi i metodi per attività intellettuale o commerciale cioè il modello di business in sé non può essere oggetto di brevetto perché non è un'invenzione industriale punto non può essere oggetto di copyright perché al massimo di copyright è cioè puoi dichiarare sotto copyright il che ne so la dispensa il manuale la presentazione a slide con cui tu spieghi questo questo modello di business ma non puoi pretendere che poi una volta che l'hai spiegato altri non applichino lo stesso modello di business e quindi si crea in effetti questo cortocircuito dunque ecco che ci sono alcune situazioni in cui il diritto ci dà delle possibilità questa è una cioè gli articoli previsti dal codice della proprietà industriale che è quello qua nel famoso decreto legislativo 30 del 2005 articolo 98 quello che prima abbiamo chiamato CPI codice proprietà industriale è sempre lui articolo 98 si chiama informazioni segrete e vedete dice che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali queste vengono chiamate know-how in inglese cioè le esperienze tecnico-industriali è il cosiddetto know-how cioè il saper fare sapere come si fa una cosa il know-how lo acquisisci magari in dieci anni in cui stai in un'impresa cioè capisci come fa quell'impresa ad accaparare più clienti di altri ad agganciare più clienti di altri ci metti un bel po' e quella roba lì ha un valore quindi se tu in un certo punto sei dirigente di un'impresa importante che ha un know-how particolare e ti licenzi e ti metti in proprio oppure ancora peggio ti licenzi e vai a lavorare dal concorrente diretto di quella impresa tu ti stai portando dietro anche il know-how aziendale che ti sei fatto in dieci anni in quell'azienda lì e quindi spesso i contratti di figure strategiche come i dirigenti i quadri o gli informatici che conoscono alcuni processi hanno delle clausole che tengono sotto segreto per un tot di anni e ti impediscono di andare a lavorare da concorrenti perché se no hai delle penali molto alte legate proprio al segreto industriale al segreto aziendale comunque costituiscono quindi oggetto di tutela le informazioni aziendali o il cosiddetto know-how le esperienze tecnico-industriali comprese quelle commerciali soggette al legittimo controllo del detenitore dove tali informazioni abbiano queste tre caratteristiche quindi siano segrete nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione o combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti o agli operatori del settore cioè quindi deve essere davvero un'informazione segreta perché se è il famoso segreto di Pulcinella come si dice in gergo cioè è una cosa che sì è segreta ma tanto la sanno tutti oppure tutti l'avrebbero fatta così perché gli esperti del settore cioè magari è un segreto per qualcuno che non è di quel settore è una cosa nuova però uno che è di quel settore lì vi direbbe beh ma certo questa cosa si fa da tempo sta succedendo un po' anche da noi in questi giorni quando hanno annunciato che appunto il San Matteo di Pavia e l'ospedale di Mantua stanno sperimentando il plasma la gente attraverso il plasma delle persone salviamo dei guariti salviamo i malati di oggi i virologi hanno detto signori guardate che questa cosa qua si fa da un sacco di tempo semplicemente la stiamo sperimentando su questo nuovo virus ma non è che sia di per sé questa grande innovazione però ecco appunto i giornalisti non specialistici cioè quelli che non si occupavano di medicina l'avevano vista all'inizio salutata come una roba mega galattica B secondo dei tre devono avere valore economico in quanto segreto cioè il fatto che siano segrete da loro già un valore economico ok è un requisito interessante questo e poi il C siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete cioè se un'informazione segreta però viene conservata in un armadietto dell'azienda in sala mensa in cui tutti possono accedere capite che non ha molto senso dire è segreta cioè perché sì tecnicamente è segreta però tutti più o meno potrebbero accedervi quindi devono essere davvero tenute sotto segreto e quindi continua la norma quindi costituiscono altresì oggetti di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporta un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'emissione in commercio di prodotti chimici farmaceuti e agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze che va beh questo è un caso un po' più particolare ok non credo che vi interessi però ecco i tre requisiti questi vanno saputi perché questi sono interessanti ok chi è che mi fa un esempio di una cosa che è segreta vediamo per esempio che ha un valore scusa le ricette particolari bravissima bravissima mi hai anticipato molto brava l'esempio di scuola che io faccio è proprio la ricetta della coca cola no la ricetta della coca cola è cioè le ricette sono quelle cose che non sono tutelabili da nulla allora tu puoi puoi fare un libro di ricette però hai un copyright su il libro di ricette non sulle ricette questa cosa l'abbiamo imparata più volte l'abbiamo già ripetuta allo sfinimento cioè non è il contenuto che viene tutelato ma è il modo la forma espressiva di questo contenuto quindi come si fa il risotto la milanese o come si fa la ribollita toscana lo conosceva probabilmente il vostro trisnonno e lo fa uguale la vostra bisnonna la nonna la mamma il cugino il fratello è così punto però ognuno però magari c'è un modo particolare per farli più buoni per dargli un sapore particolare e quella nuova lì quindi o la tieni segreta oppure non hai un modo per tutelare la ricetta e quindi nel momento in cui tu fai un libro in cui racconti che fai rosolare la cipolla in un certo modo che ci metti l'olio di un certo tipo e allora quello fa sì che abbia un sapore eh vabbè grazie allora ormai l'hai raccontata da lì in poi tutti gli chef potranno tutti i cuochi potranno più o meno fare la stessa cosa non potranno sicuramente copiare pari pari la tua ricetta nel senso che non potranno violare il copyright su quella ricetta come l'hai scritta tu però ecco ci sono alcuni casi in cui la ricetta in sé ha un valore commerciale molto potente la coca cola è cioè come dire non è una questione la bontà il sapore della coca cola non è la questione di composizione chimica perché la composizione chimica della coca cola è nota da anni cioè tu prendi una lattina di coca cola la porti a uno studio chimico che c'è al tuo paese qualunque posto gli dici paghi un tot e loro ti dicono esattamente il giorno dopo che cosa c'è dentro però non te ne fai nulla perché non te ne fai cioè non è la composizione chimica che dà il sapore il sapore lo dà il procedimento quindi io non so per quanto tempo lasci a bagno gli aromi per quanto tempo fai bollire l'acqua quando aggiungi l'anidride carbonica quando la conservi come la conservi e bla 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 tutta quella roba lì insieme fa sì che la coca cola abbia un sapore diverso dalla pepsi e dalla e dalla x cola da altre da altre bevande simili ok e che quindi nessuno sia riuscito davvero a replicare il sapore della coca cola esattamente come lei e quindi vuol dire che in questo esempio ci sarà sicuramente all'interno della coca cola company un gruppo di persone ristretto che è l'unico a conoscere tutto il procedimento quindi quella è un'informazione segreta quindi se tu diventi sostanzialmente dirigente della coca cola domani è molto probabile che ti facciano sottoscrivere un accordo di segretezza adesso vi faccio vedere la seconda parte delle slide in cui ti assumi anche l'impegno a non rivelare il procedimento perché se lo riveli pagherai una penale così alta per cui ti passa subito la voglia altro metodo è quello di far conoscere il procedimento solo a pezzi quindi anche all'interno della coca cola non c'è davvero una persona che conosce tutti i pezzi cioè tizio caio sempronio ognuno conosce un terzo del procedimento e loro devono essere presenti tutti e tre per poter arrivare alla fine sono tante strategie per poter tenere vedete sotto controllo un'informazione che di per sé ha un valore in quanto segreta però come vi dicevo molte volte si risolve con il contratto cioè dove non arriva il diritto cioè dove non arriva una norma giuridica può arrivare il contratto non abbiamo una norma che arriva così tanto che riesce a vincolare così tanto e allora le aziende che hanno interesse a tenere nascosti alcuni a tenere sotto chiave alcune informazioni anche quando non puoi tenere nascoste anche quando a volte devi esporle allora fanno firmare ai loro interlocutori i cosiddetti NDA non disclosure agreement cioè accordi di non divulgazione è una delle cose che mi viene richiesta di più ultimamente cioè come avvocato io ho tot modelli o dei modelli standard di accordi di non divulgazione ogni tanto un cliente te lo chiede tu glielo devi aggiustare devi cercare di capire le sue esigenze però è abbastanza un classico l'accordo di non divulgazione non disclosure agreement è un negozio giuridico di natura sin alla lagmatica vuol dire che crea un legame reciproco tra tizio e caio e tra caio e tizio che designa alcune informazioni come confidenziali e con il quale le parti si impegnano a mantenere segrete appena la violazione dell'accordo stesso e il decorso di specifiche clausole penali nelle sue contenute quindi vedete visto che non c'è una norma giuridica che stabilisce quali conseguenze deve subire un tizio che rivela queste informazioni allora lo si stabilisce nel contratto e si stabilisce già una penale perché si stabilisce a priori perché poi è difficile dare un valore cioè qual è il valore cioè quanto vale la ricetta della coca cola in sé boh magari nulla magari poi ci si accorge che nessuna voglia davvero di sviluppare una cosa che tanto c'è già in commercio a pochi centesimi di euro e che la fanno già ad atlanta non c'è bisogno di farne una copia e quindi stabilire a posteriori il valore economico di alcuni segreti è molto difficile stabilirlo a priori è più facile nel senso che io stabilisco una penale cioè ad ogni violazione tu mi devi dare 10.000 euro 100.000 euro 30.000 euro a seconda dei casi in altre parole è un contratto attraverso il quale le parti decidono di non svelare le informazioni indicate nell'accordo esso crea una relazione confidenziale tra le parti al quale al fine di proteggere qualsiasi tipo di segretto industriale salvaguardando informazioni commerciali non pubbliche vabbè sì possono essere mutui cioè questa come vedete è la propria definizione da enciclopedia l'ho preso da wikipedia anche questa tali accordi spesso sono firmati quando due aziende o privati pensano di fare affari insieme è l'esempio che vi dicevo prima cioè la start up che deve parlare con un grande un grande gruppo commerciale la società che si occupa del suo stesso settore per farsi finanziare e lei ha paura che loro poi si facciano dire sostanzialmente le informazioni rilevanti e poi le utilizzano per farsi gli affari loro allora in questo caso la richiesta di firmare un NDA potrebbe essere cosa buona il problema qual è che essendo un contratto la controparte potrebbe decidere di non firmarlo ed è più o meno quello che succede in molti casi cioè tipo google è noto che non firma c'è proprio una pagina in cui lo spiegano google non firma accordi di non divulgazione cioè se tu ti fidi bene se non ti fidi loro pazienti non parlano con te questo è un po' l'approccio come dire loro cercano di presentarsi con un approccio etico noi non abbiamo mai fatto non abbiamo mai fra virgolette rubato le idee a nessuno se vuoi venire a parlarci della tua idea noi ti accogliamo volentieri se però ci chiedi di firmare un accordo di non divulgazione probabilmente allora non ci interessa non siamo noi gli interlocutori migliori per te e lì sta un po' a te cioè o ti fidi oppure non ti fidi e perdi l'occasione di parlare magari con google che non è una cosa che ti capita tutti i giorni ci sono poi altre vie di mezzo nel senso che a volte ci sono strategie per cui riesci a raccontare l'idea cioè lì dovete più chiedere a un esperto di comunicazione piuttosto che a un esperto di legge di questioni giuridiche però ci sono modi per raccontare una cosa per spiegare un'idea diciamo non dicendo davvero tutto cioè dicendo quanto basta per far venire curiosità e interesse al tuo interlocutore ma non dicendogli le cose vere cioè non dargli le informazioni chiave per poi poterlo fare appunto gli accordi possono essere mutui o limitare una sola delle due parti cioè a seconda dei casi può essere uno solo dei due soggetti essere vincolato al segreto oppure entrambi ognuno visto che ci si scambia dei dati allora entrambi sono soggetti alla segretezza ecco questo è un esempio pensiamo a tutti quei casi in cui rivelare la nostra idea o alcune informazioni diventa necessario appunto quando devi presentare l'idea ad un potenziale finanziatore o partner futuro della tua della tua impresa basta grazie a tutti grazie a tutti